salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale oggi porto lo speciale di halloween c'erano un paio di deck candidati a diventare mazzo speciale di halloween c'era un ghostrick mill che però sappiamo benissimo dove va a finire ghostrick solitamente quando decidi di provarlo o di fare qualche partita quindi ho preferito desistere c'era un vampiro che poteva andare solo primo perchè se andava secondo veniva accartocciato oppure l'opzione di portare questo mazzo qua ripensato in maniera un po' più competitiva visto che in tanti me l'avete chiesto e quindi ho deciso di portare questo mazzo qui c'è un piccolo speciale che vi aspetta a fine video quindi che in realtà è un altro video ci sarà il link sotto in descrizione o nei commenti oppure in tutte e due non lo so da cliccare con il replay e una piccola cosina per halloween quindi lo vedrete poi quando avrete finito tutto cominciamo a parlare del mazzo questo sarà un video molto lungo perchè non ho intenzione di fare 57 video sugli zoom 3 per di spirit king perchè è una bestia incredibile è la carta boss del mazzo ed è facilissima da evocare e da riciclare in più ha il doppio effetto che nega e banna uno quindi non metterla in 3 per è follia in più può succedere che a volte giocandola in 2 per te li ritrovi entrambi nelle mani e piangi quindi 3 per purtroppo è un rischio che può capitare che ti fa briccare ma bisogna giocarla in 3 per è inutile 2 per di fraueling fraueling è veramente una carta epica qui dentro per 4 motivi tutte le volte che viene dichiarato un attacco la cali paghi life points i tuoi mostri non vengono rotti magari rompi anche i mostri dell'oppo e siccome che l'effetto suo parte sulla dichiarazione d'attacco e non in damage step fa partire anche l'effetto dello spirit king in caso magari non avevamo altri modi o non c'era zombie o world e compagnia ti protegge giustamente lo spirit king se per qualche strano motivo riusciamo ad evocarla normalmente come tributo quando abbiamo la vampire sucker e riusciamo a far dichiarare un attacco e spaccare un mostro finita la battle ce lo andiamo ad evocare dalla nostra parte e in più è un target per bloom in caso non abbiamo più gli spirit king nel mazzo ci sono tantissime ragioni per volerla qui dentro l'unica cosa che non è particolarmente positiva è che giocando 5 mostri da più di 4 stelle può capitare che vadano un po' a legnare però capita molto raramente 2 per della banshee purtroppo il mazzo è dipendente in una maniera incredibile da zombie world se non avvediamo zombie world subito non dico che perdiamo perché non è vero però è una partita veramente tanto in salita e alla prima interruzione la prima roba che va storta possiamo anche assarci dal tavolo 3 per è un po' pesante anche per le tante abbiamo 520 modi di prenderci zombie world abbiamo i terraforming abbiamo i gozuki per macinare lei abbiamo gli uni zombie c'è foolish quindi penso che 3 sia un po' asfissiante 3 per di gozuki come giocare 4 copie di foolish burial in più il secondo effetto che quando viene mandato al cimitero ti fa evocare uno in special dalla mano delle volte ti può andare a render vive delle copie di spirit king che se no non riusciresti mai ad evocarne la vita e sono bloccate nella mano diversamente solo 2 mezuki mezuki lo giochiamo solo in 2 per volendo se siete coraggiosi potreste anche pensare di giocarne solo uno per il semplice fatto che lui sull'evocazione non combina veramente nulla ci sono tanti modi di mandarlo ci sono un paio di modi di riciclare e di rimetterlo nel mazzo quindi anche volendo 2 o 1 per sono più che accettabili 3 mi sembra un po' troppo 3 per di solitario lui è l'accesso veloce a bulbo oppure a uni zombie lo puoi tributare o puoi tributare un altro mostro zombie sul campo ti vai ad evocare uno zombie tuner con 0 difesa dal mazzo il secondo effetto che va a riprendere mostri shiranui per noi è indifferente perché tanto non giochiamo niente degli shiranui 3 per di uni zombie mostro che ci fa girare tutta la baracca da ricordarsi c'è soltanto il fatto che se attivate l'effetto di mandare uno zombie dal deck al cimitero per tutto il resto del turno non potete attaccare con niente che non sia un mostro di tipo zombie sembrare una robina da niente ma in realtà metti caso che provi di fare una board grossa o vai a calare dei link 3 o un board o due compagnie poi non può attaccare ci resti molto male quindi ricordatevelo perché sennò poi ci trassa 2 tazzo necro non è favoloso sinceramente ho sperimentato quando non ce l'ho lo voglio quando ce l'ho in mano non lo voglio quindi è una carta che proprio non riesco a farmi piacere però è qui dentro perché ti può dare accesso velocissimo al red eyes il red eyes solitamente con uno zombie world e un altro mostro zombie qualunque sul campo di solito fa fare game l'unica cosa brutta che ha questa carta è che se stesso e l'altro mostro materiale sincro che andiamo ad utilizzare per evocare vengono banditi invece che essere mandati al cimitero quindi significa che purtroppo non possiamo più utilizzare gli effetti degli zombie perché partono tutti al cimitero se vi sentite di rimpiazzarlo siete liberissimi di rimpiazzarlo solo 2 esblossom perché ci aiuta a far partire l'effetto di spirit king metti caso che non c'è zombie world un bulbo questo è stato suggerito da un ragazzo nella sezione commenti dello scorso video io sinceramente non ci avevo pensato ora capita molto raramente di riuscire a calare natura e bestia perché abbiamo tutti gli effetti che ci vanno molto a restringere le vocazioni però avere la possibilità dell'accesso a natura e bestia contro determinati mazzi è molto grosso 3 per di bloom alcune liste ne giocano solo 2 e posso capire il ragionamento dietro a giocarne solo 2 però oggettivamente se te lo vedi in mano ti vai a far l'incuribo e ti parte l'affetto quindi non è mai una carta morta poi riparto magie un 1x1 che è da usare in maniera intelligente più che altro per beccarsi le asce lì sopra piuttosto che su un 1i zombie o su un solitario necronize e struggle che le giochiamo si per gli effetti che vabbè uno pompa di mille o spompa di mille mostri zombie l'altro va a fare un controllo a mente ai mostri dell'avversario se controlla un mostro di livello 5 superiore però più che altro perché li puoi andare a riciclare te li vai a rimettere setati sul campo scegli una carta bandita la rimescoli nel mazzo se non vi piacciono potete anche rimpiazzare queste due con una sepoltura dall'altra dimensione mi sembra che si chiami quella che rimescola tre bandite dentro il cimitero un card extraction perché scartare non è una cosa negativa per il mazzo due terraforme perché abbiamo bisogno del mondo zombie prima possibile foolish poco da dire reborn anche cool led come abbiamo già detto anche prima se ci becchiamo un entrap su un pezzo di combo passiamo quindi cool led è assolutamente da includere qui dentro una super pole super pole è qui dentro perché ci può aiutare quando andiamo a secondi a rompere le borde dell'avversario insieme al mondo zombie facciamo diventare tutti i suoi mostri zombie poi li andiamo a fondere per fare il drago negro il problema qual è che il drago negro è un drago non è un mostro zombie quindi ve lo dovete ricordare in caso avete fatto che ne so l'effetto di qualche cosa che vi va a limitare le vocazioni sapete che state calando un drago e non uno zombie quindi non tracciate e infine 3x della terrina quindi parliamo un attimino dell'extra drago negro abbiamo già detto tutto ricordatevi che il suo effetto se combatte contro un mostro che non ha livello non parte è un po' problematico però alla peggio lo linkate via se non serve a niente in quel momento sul campo un bez che può tornare utile in alcuni matchup tipo true drago mazzi che hanno difficoltà a levare dal campo mostri in modi che non siano la battle un shogun saga che sarà un target molto molto ricorrente del nostro extra deck perché lo caliamo fuori veramente spesso da qui dentro incredibilmente non pensavo ma invece capita molto spesso un omega per andare a riciclare i banditi solo uno zombie dragon perché tanto più di una coppia non penso che oggettivamente vi possa servire un black rose perché può capitare che abbiamo un unizombi vanilla e un mostro di livello 4 e abbiamo il bisogno di pulire tutto il campo puliamo e poi dal turno dopo ci andiamo a riprendere con calma Exition è l'unico run 4 che ho deciso di includere volendo è rimpiazzabilissimo da altro però è un stesso discorso di black rose se capita che non abbiamo più il vantaggio e dobbiamo resettare la board ci danno la possibilità di resettare la situazione un borrelode rimpiazzabilissimo da un borrel sword se vogliamo fare un attimino più otk un unicorn una fenice un cerbero sono steep e poi le carte che andiamo a calare di più fuori da questo extra assieme allo shogun saga al necro dragon sono le sakker e un linkuribo la sakker ha tre effetti il primo è utilizzato veramente da pochissimi e invece è abbastanza importante capire quando è il momento di abusarne ovvero che se stai per evocare per tributo un mostro di tipo zombie puoi utilizzare come uno dei tributi uno dei mostri zombie controllati dall'avversario quindi avendo la terreno che li rende tutti di quel tipo lì è molto semplice riuscire ad approfittarsene un altro effetto dice che puoi targettare un mostro nel cimitero dell'oppo evocarlo special in posizione di difesa quindi significa che ad esempio i link non li possiamo andare a prendere ma diventa un mostro di tipo zombie e il secondo dice che se un mostro zombie viene evocato special o dal tuo cimitero o da quello dell'oppo peschi una carta entrambi sono limitati una volta per turno e infine l'incuribo l'incuribo qui è accessibile veramente in modo facilissimo evocando o il bulbo luminoso o il bloom e tutte le volte che lo caliamo di dritto di rovescio plussiamo in più torna buono qui dentro perché se abbiamo un turno veramente moscio perlomeno ci protegge e evita che veniamo oticapati malissimo visto che tanti tutte le volte mi chiedete che cosa posso mettere di side e compagnia a questo giro vi ho fatto anche una piccola side quindi giochiamo tre marionette una carta assolutamente sottovaludatissima qui dentro quando invece secondo me ha tantissimo potenziale soprattutto perché non targetta e quindi con zombie world potete andare a fregare qualunque mostro dell'avversario fino all'end phase ma incontro l'altra carta ottima quando andate in secondi in più sempre per il discorso di zombie world qualunque mostro andate a prendere all'oppo diventa materiale per la sucker tre viaggio condiviso poco da dire tre twin twister perché il mazzo fa fatica contro tutti i deck con sette e cinque passo e tre rivalry perché se c'è la zombie world e l'oppo ha già un mostro in campo lo andiamo a condannare a un'esistenza di sette passo quindi parliamo un attimo di carte che potevano essere qui dentro ma che ho deciso di non inserire col senno di poi abbiamo tutte le varie carte Shiranui quindi abbiamo spirit master spectra sword e le trappoline perché non sono qui dentro perché ci vuole un attimino di posto per andarle a inserire sinceramente non penso che valga la fatica di giocarli qui dentro in più spectra sword ha un effetto lentissimo se l'effetto suo fosse stato rapido vero che lo macini e poi puoi andare a bandire cose per evocarti un sincro subito bene ma dover aspettare un turno nel meta di adesso non ce lo possiamo permettere un'altra carta che potrebbe essere giocata qui dentro come tec carina magari in due pair è la trappa dei Shiranui perché tributi un mosto targhetti due le spacchi se magari ti vai a tributare uno spirit king dopo che ha utilizzato il suo effetto plus in una maniera incredibile però è abbastanza difficile riuscire ad utilizzarla a pieno delle volte sei costretto a decidere se tenerti lo spirit king e aspettare che l'oppo attivi i suoi effetti oppure poppargli due carte e perdere lo spirit king per il resto del turno quindi non lo so può sembrare una super carta ma non lo è alla fine del credo più avanti quando usciranno i mayakashi fra una quindicina di giorni si potrà pensare di fare qualche acrocchio strano con questi bad boys però per il momento ho preferito non concentrarmi molto su questo mazzo qua i vampiri sono un'altra possibilità però il problema dei vampiri è che sono tutti di livello alto quindi aggiungono altre inconsistenze in più alla fine sei costretto a decidere se tenerti lo spirit king oppure se giocare un mazzo prettamente vampiro e sinceramente alla fine del credo non è vale la pena di droppare lo spirit king per giocare i vampiri a meno che non fai un mazzo puramente going second allora ci puoi un attimo pensare ma diversamente c'è poco da fare è un peccato perché grimson faceva fare un'ottima combo con lo spirit king un'altra idea potrebbe essere di links e anche questo è stato suggerito in un commento però sinceramente non mi piace tanto la carta perché è vero sì che scartare è un buon effetto per noi per il mazzo per far partire comunque effetti però diamo la possibilità all'oppo di scegliersi la mano che gli pare andarsi a scegliere le carte che gli servono per andare a chiudere la partita e spaccarci tutto quindi non è secondo me un'ottima idea giocare di links qui dentro ci sono ovviamente tante altre possibilità non ci soffermiamo proprio su tutto perché sennò viene un video di mezz'ora però credo di avervi più o meno spiegato quali altre strade ci sono per il mazzo quindi ragazzi io direi che il video può terminare qui se avete qualche domanda fatemi sapere nei commenti sotto ricordatevi che c'è a parte il video con i replay e vi lascerò sicuramente il link qui in giro quindi andate a dare un'occhiata un saluto a tutti e buon halloween ciao ciao